No, questo è, è troppo morbido. Deve essere morbido, questo è il punto, no? Signora, le faccio provare questo fisiologi. Si mette nella posizione esatta in cui dormi di solito. No, ma non c'è bisogno. Scusa, girati su un fianco, dai, mettiti come dormi di solito, a cucchiaino. Eh, no, grazie, veramente. Senti, decidi tu, eh. Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Ma dove lo trovi un uomo che ti porto il caffè a letto? Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita, la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta, goditi un pochino questa libertà che hai. Sì, sì, vai, vai, c'è ancora spazio. Qual è il spazio? Lo sai, non ci vedo, vai. Non vedi, non ci senti, mi pare da stago Anna dei miracoli. Hai incontrato una persona? Un uomo o una donna. Posso sapere da quanto tempo mi racconti parla? Ma come stai ridendo? Perché come stai? Come una che le manca un pezzo. Tu hai dei vergogni? Ancora. Io ho bisogno di capire. Tu sei l'unica persona importante per me. Io con te ho imparato un sacco di cose. Beh, diamo la puntata e siamo indietro. Vedi, rilascio questa, questo è il condizionatore. I need someone to take some joy in something I do.